Banca di Prato, cambiamo argomento, si allarga il Comitato Promotore e si prepara il prospetto informativo che serve ad avviare la raccolta di capitale. Tutto pronto per chiedere l'autorizzazione a Consob e intanto si assume uno stagista per il piano industriale. Un altro tassello per la futura Banca di Prato, l'ampliamento del Comitato Promotore con l'ingresso di quelle persone, imprenditori, professionisti e semplici cittadini in tutta una sessantina che hanno mostrato un interesse reale per la nascita di un istituto di credito pratese. Accanto a questo la stesura del prospetto informativo che rappresenta il primo passo per l'inizio della raccolta del capitale. La seconda fase consiste nell'allargamento del Comitato, una promessa che avevamo già fatto ad aprile e quindi cercheremo di ampliare questo gruppo di volenterosi che vogliono una nuova banca a Prato, anzi una banca nuova come è da nostro slogan. Intanto siete pronti anche per chiedere l'autorizzazione per le sottoscrizioni, si passa da Consob naturalmente. Esattamente, prima dobbiamo, l'iter prevede un passaggio da Consob per poter iniziare le sottoscrizioni del nuovo capitale. Tanti iscritti alla newsletter, 700, questo significa che c'è molto interesse attorno a questo progetto. Esattamente, c'è molto interesse non solo da parte dei cittadini, anche dalle associazioni di categorie, comunque tutti gli enti che abbiamo interessato, c'è molta curiosità e molto interesse a favorire una nuova realtà finanziaria in questa città. Prato è una città che cerca sempre di rialzarsi nella difficoltà, lo ha fatto nel secondo dopoguerra e ora, dopo questa guerra finanziaria di crisi economica che c'è stata, Prato sta veramente ritrovando la strada per poter risollevarsi e questa opportunità imprenditoriale è una di queste dimostrazioni di volontà della città di rialzarsi.